ciao ragazzi torniamo fra le mie bombe leccio torniamo a parlare di costruzione soprattutto estiva quindi in questo periodo esatto della stagione concimazione punto della situazione per quanto riguarda il leccio quindi pianta a sé tutte le piante che avete anche appunto della situazione cerchiamo di capire primo cosa fa adesso la piante quindi per la questione qualità quantità correlata anche alla qualità come vedete ragazzi parte la stasi vegetativa che ha in questo momento questa pianta ok quindi tanto per quanto riguarda il leccio sono piante che in estate sparano il triplo e quindi appena arriva un pochettino il caldo iniziano a vegetare ancora di più però ovviamente dovete stimolare la pianta con le potature quindi chi vi sta dicendo non potare che ormai è luglio bisogna invece potare perché è luglio ok per questo il leccio adesso continua a sparare a raddoppiare ok quindi concimazione potatura stretta se avete maturato i butti ovviamente se la pianta sta bene potatura stretta sa pianta è lì che è sul chi va la prima cerchiamo di ricaricarla bene facendo in modo che stia proprio al massimo che poi una volta che ha maturato allora si può potare l'oggetto è un altro video ci sono piante come cipresso ok questo il leccio la quercia sempre verdi in generale ok partono un po dopo ed è ovvio aspettarsi una vegetazione una spinta vegetativa anche comunque nei mesi estivi di base no poi se andiamo anche dietro la pianta quindi non li remiamo contro quindi andiamo anche a fornirgli quello che gli serve per stare bene per spingere ancora di più vi ritrovate un mostro come questo ok quindi pieno quindi ragazzi per quanto riguarda la costruzione adesso non state di a far fine storie varie c'è via a bomba poi dopo si corregge il tiro ok si spara e poi si guarda il percorso si va a correggere bene o male le distanze e la lunghezza dei rami una volta maturi ok quindi non state di tanto ad aver paura ancora prima di partire che ragazzi quindi concentrati soltanto sul far vegetare anche in questo periodo qua no quindi ci metterà in molto lunghi e maturi ma tagliate tranquillamente vi vegetano ancora vi raddoppiano se non vi vegetano non vi raddoppia la pianta bene o male se un ramo è maturo e grosso vi farà le gemme e partirà l'anno dopo ok quindi nulla è perso ragazzi nulla è perso scelta stare chi vi mette paura o cose strane no adesso perché non c'è un perché ragazzi se la pianta sta bene si puota si concima e si va avanti perché l'obiettivo è progressione per la concimazione se c'è un po di domande amo claudio qui piove posso concimare prima dalla pioggia dopo la pioggia ragazzi concimate e basta mettete sopra detonation alpha giù biodoped la settimana libera quando non avete concimato la notte che cripton insieme a detonation alpha ok poi se piove si scioglierà prima detonation alpha andrà giù la pianta se lo mangia se non piove tanto annaffiate c'è capito ragazzi bene o male se annaffia tutti i giorni se un giorno piove non succede non è che non cambia nulla non c'è bisogno di stare lì a a decifrare 50 cose l'obiettivo è sparare lungo e poi correggere in seguito che non è come sparare con la pistola che prima bisogna prendere la mira e poi si spara prima si spara poi nel mentre si regola la mira e il vigore in tutti i rami che è veramente molto molto semplice considerate questa cosa ragazzi se la pianta prende la luce da mangiare e al substrato specifico che funziona bene ragazzi è fatta è fatta ragazzi avete una strada tutta in discesa zero problemi se poi aggiungete anche i prodotti preventivi è stra fatta però considerate sta cosa già se la pianta sta bene vegeta bene matura agli insetti non vanno neanche cioè non se ne fregano niente gli insetti vanno a finire il lavoro ok quindi con la pianta non funziona bene vedrete che arriva sempre qualcuno a rompere i coglioni che è sempre così a bomba ragazzi a breve andiamo in laboratorio con questa che ci facciamo un'altra potatura vi faccio vedere io cos'è la stagione vegetativa e faccio vedere un mostro pieno di roba di nuovo faccio vedere che dopo la potatura ricaricherà di nuovo e sparerà di nuovo come una mina devastante tanto per cambiare i risultati sono l'unica cosa che conta ragazzi cioè inutile stare lì a studiarsi i pdf in giro tutte ste robe o a fare a guerra che più scemo alla fine chi ha le piante che funzionano che stanno bene che sparano ha trovato semplicemente la strada che funziona poi chi vuol seguire segue chi invece vuol stare lì a fare il professore e farà il professore ma che cazzo cioè non è un problema mio che ragazzi qua tutto bene le piante vegetano tutte alla stragrande anche adesso che è luglio guardate l'olmo laggiù non mi sembra che ci siano problemi da nessuna parte ok l'ultima pianta in vendita ragazzi per chi la vuole pieno silvestre pianta di valore bella veramente bella poi basta poi finito e se la volete se non la volete la porto avanti la miglioro e poi me la tengo è giusto così ciao ragazzi mi raccomando meno pugnette giù testa bassa coltivare portare avanti luce acqua substrato concima bomba e guardate dritto per la strada più semplice possibile per avere un risultato che è lasciate stare tutto il resto perché poi dopo di si diventa pazzi si diventa sono alberi che stanno in un vaso e punto non sono piante speciali è fondamentale un'altra cosa prendete piante che sono compatibili con il vostro clima piante che funzionano bene tutto l'anno nel vostro clima noterete che è un olivastro ragazzi è in sicilia calabria bassa centro italia ragazzi lavora molto meglio piuttosto che in trentino e so anche quella è una pianta che in estate lavora molto molto bene quindi anche lì non capisco questa cosa di impuntarsi con la stasi invece la pianta si ferma il caldo la sofferenza ma che cazzo sofferenza ma quando mai sono 3 4 anni che faccio vedere piante che lavorano a bomba ma quando mai ci sono stati problemi col caldo mai poi mai annaffiato una volta in più e siete a posto fine ok a bomba ciao a tutti ragazzi grazie